buon dì allora quinta puntata di questa rubrica da zibao io sono sempre nicolò una rubrica in cui consiglio libri non sono almeno fino adesso non sono state mai prime uscite questo è uscita recenti questo è il giro di boh ha detto che almeno arriverò a farne 10 poi vediamo vediamo cosa succede questa volta un libro del duemila e 22 2022 si intitola l'eclisse di lei con di lei che incontro credo di averlo pronunciato nel modo corretto lei è tiffany mcdaniel allora come sempre questi sono consigli quindi non sono recensioni questi realtà libro che mi viene difficile da consigliare ma ma ci arriviamo partiamo come sempre dal dal genere da provare ad identificare un po il genere siamo di fronte di nuovo a un romanzo con una realtà che è un po riconducibile alla nostra con un accadimento che però ha del fantastico perché di fatto c'è una sorta di nube forza che sta crescendo nel mondo e sta distruggendo e sta annientando e sta polverizzando tutto quello che succede e è un po tipo però con altri toni il nulla della storia infinita ma dopo questo è una roba pessima da dire però va beh questo mai venuto in mente quindi siamo anche qui al limite col distopico fantasy molto molto cupo molto dark ancora una scrittrice femminile ho detto che non era il mio genere quando ho parlato di ragazze elettriche però è la seconda volta che presento un libro di questo genere qui anche se non sono esattamente la stessa cosa ancora una volta una scrittura femminile non so se questo c'entra in qualche modo no comunque la storia è più o meno questa il protagonista è l'acom c'è questo avanzare di questo nulla di questo nube nera di questa cosa che sta distruggendo il mondo e c'è appunto questo personaggio che sta cercando di ritornare dalla sua famiglia punto della trama non dirò nient'altro anche perché è un casino veniamo al libro è un libro che consiglio no non è un libro che consiglio in maniera più assoluta perché perché è un libro fastidioso è un libro difficile è un libro complesso è un libro da pelle viva proprio fastidioso ecco fastidioso è il termine che 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 mi viene in mente per tutta la parte iniziale del libro cerchi di star dietro a una trama che è molto complicata molto molto intricata quindi uno di quei libri che all'inizio richiedono tantissima attenzione poi ti ritrovi dentro questa realtà che comunque angoscia con eventi che succedono sono sempre un po al limite dell'accettabile cioè sono quelle cose che forse non si dovrebbero raccontare detto detto malissimo ma che in realtà tiffany mcdaniel fa succedere e racconta sin dall'inizio la scrittura ti coinvolge tantissimo quindi perché ho detto che è una cosa che non mi sento di consigliare perché è molto fastidioso detto questo è stata una delle letture più belle che ho fatto in quel periodo nel senso che poi il libro è scritto veramente bene la storia è veramente particolare è avvincente ti ritrovi a un certo punto a continuare perché ti chiedi come potrà fare a un certo punto a mettere in fila tutto quello che è stato creato tutto quello che è stato raccontato come fa alla fine a convergere in un finale quindi hai questa aspettativa qui accompagnato torna a dirlo perché va detto a una scrittura che è di un livello incredibile lei è veramente brava scrive veramente bene altrimenti questo sarebbe un libro che smetteresti di leggerlo dopo cinque pagine perché non ti coccola cioè proprio respingente fastidioso urticante a tutta sta roba qui poi arrivi verso la fine cominciano arrivare i puntini sulle i e io ricordo esattamente la mia reazione è stata quella di prendere il libro e di lanciarlo via io non è che ho ste reazioni teatrali soprattutto quando sono da sole leggo il libro in conto se mi chiede qualcuno allora faccio un po' però ho preso il libro e ho buttato via perché il finale è fastidioso il finale è inaccettabile ma è stupendo il finale è un carico che non ci meritavamo però è stupendo cioè tu arrivi alla fine e ripeto io ricordo di aver lanciato via il libro perché il finale per me era non era accettabile ma non sto parlando di qualità sto parlando di dove ha portato la storia cioè la cosa incredibile è dove riesce a portare alla storia e tu arrivi alla fine di questo libro che sei stato massacrato dalla scrittura di della cara tiffany mcdaniel tiffany mcdaniel che tra l'altro è molto più giovane di me e questa è un'altra cosa che mi infastidisce molto però dovrò farmi una ragione perché quelli più giovani di me sono sempre di più rispetto a quelli meno giovani di me però ho interrotto un po' il flusso perché sennò diventa troppo sono in una location diversa sul magazzino questo è un'altra cosa e dunque stavamo dicendo la cosa incredibile è che tu arrivi alla fine con tutte queste sensazioni tutto questo fastidio tutto questo essere stato urtato dal libro e poi dici cazzo ma sono tutte cose che ha scritto quanto deve essere bravo brava in questo caso uno scrittore una scrittrice per riuscire a farmi provare così tanto fastidio a urtarmi così tanto a mettermi così tanto a disagio semplicemente riempendo delle pagine di parole cioè devi essere veramente bravo non sto parlando solo di aver messo dentro dei contenuti tutte le volte molto sfidanti non è non so avete presente adesso va molto un po' di moda la stand up comedy dove si accetta di fare umorismo ironia e di ridere su tematiche sulle quali non bisognerebbe farlo e tu accetti di essere una brutta persona perché ridi di certe cose e si supera il limite ecco quando guardate quello vi rendete conto che ci sono comici che non so come si chiamano stand up per comici quelli che sono veramente bravi perché al di là di fare battute su temi su cui non bisognerebbe fare battute riescono anche a farle divertenti quindi farti provare il disagio nel fatto che ti fanno ridere e a essere capaci da un punto di vista della presenza cioè non basta fare scrivere qualcosa di fastidioso e urticante l'eclise di lake and cocktail non è semplicemente un insieme di cose che ti dà fastidio leggerle per il loro livello di di morale è qualcosa che lei ha raccontato e ha scritto in una maniera incredibile lancio il libro anche adesso ha lanciato basta cos'altro dire sarebbero tantissime altre cose da dire però in riassunto voglio dire solo questa cosa qui è un libro che faccio fatica a consigliare a tutti quanti perché è una lettura pesante fastidiosa che urta che mette a disagio e molto sfidante il consiglio che mi viene da darvi è prendetevi un fine settimana e sparatelo in un fine settimana perché insomma è da reggere per di più diventa diventa faticoso sembra che io stia esagerando proprio dopo se lo leggerete me lo confermerete però vogliamo usare la parola capolavoro capolavoro cioè per quanto io non mi senta di consigliarlo a tutti il problema non è del libro il problema è dei tutti perché in realtà questo sta è piaciuto tantissimo quindi se non avete paura di confrontarvi con un mondo brutto e bastardo leggete l'eclisse di Lake & Kotl di Tiffany McDaniel perché lei ha spingi sull'acceleratore altra cosa che mi piace cioè quando hai un'idea spingi sull'acceleratore non fermarti a metà se l'idea ce l'hai e merita spingi fino all'acceleratore lei spinge full petrol e poi con una narrazione con un uso della lingua con una capacità di coinvolgerti solo con le parole ribadisco io a ridosso della fine ho preso il libro ho buttato via dal fastidio che mi stava dando quello che leggevo e stavo semplicemente leggendo delle parole scritte su un foglio quanto devi essere bravo per entrare in un lettore in questo modo qua bene lo riprendo dopo che l'ho lanciato l'ho lanciato su uno scaffale per farvelo vedere di nuovo Tiffany McDaniel l'eclisse di Lake & Kotl è un libro del 2022 che sarebbe bello che tutti quanti riuscissimo a leggere ciao